Si è corsa sui 2375 metri dell'autodromo Riccardo Paletti di Varano de Melgari la seconda sfida stagionale dell'acceso campionato italiano prototipi nell'ambito dell'ACXI Racing Weekend. Il bel tempo ha favorito anche l'afflusso del pubblico che non ha perso l'occasione per assistere alle appassionanti gare dei campionati italiani dell'ACXI Racing Weekend. Il weekend si è delineato sin dalle prove ufficiali quando Fabio Francia ha siglato la pole position dopo il proficuo lavoro svolto insieme allo stesso Enzo Osella sulla PA21 P1. Sfide infiammate e bei duelli durante i 33 minuti più un giro di gara corsa sotto un sole splendente. Al via Francia mantiene il comando con un'ottima partenza. Subito Bagarre con contatto tra Uboldi e Bellarosa col Comasco che riesce a prendere la seconda posizione. Ma subito dopo con un nuovo contatto Bellarosa si riappropria del secondo posto. Del duello approfitta bene Falci che così si porta al terzo posto costringendo Uboldi a inseguire. Francia continua ad approfittare della battaglia alle sue spalle per allungare sui diretti inseguitori. Solo dopo tre giri l'ufficiale Osella ha accumulato oltre sette secondi di vantaggio. Poi gli sono bastati dieci giri e poco più di dieci minuti per iniziare i doppiaggi compiendo anche la tornata più veloce in 1.04.309. All'ottavo giro Uboldi tenta di avvicinarsi a Falci che tiene un ritmo molto alto ma deve difendersi dall'esperienza del Comasco alla guida dei prototipi. Un testa coda di rocca bianca sulla norma ha rallentato Falci ed Uboldi. Il Comasco della norma attacca il Toscano della Ligè ma l'attacco finisce sull'erba alla X. Uboldi rientra in vantaggio e fa correttamente nuovamente passare Falci all'undicesimo giro. Al diciottesimo giro Uboldi accusa noie meccaniche per aver chiesto troppo ai freni e al motore della sua norma ed è costretto a rallentare lasciando via libera a Margelli e Diana. Il Comasco è poi costretto alla resa. Atmosfera calda in gara dove il Polman Fabio Francia al volante dell'osello ufficiale PA21P spinta da motore Honda da 2000cc ha imposto il suo dominio sin dal via rendendo inarrivabile per la concorrenza il suo ritmo di guida. Il giovane milanese ha dominato l'intero weekend parmense sin dalle prove live. Siamo partiti bene già da venerdì, subito le prime prove, anche nel secondo abbiamo fatto il primo tempo in qualifica e alla fine della gara, quindi siamo molto contenti dopo la sfortuna che abbiamo avuto a Imola dopo aver fatto il primo tempo, ci voleva. Adesso ripartiamo per Misano e cerchiamo di vincere ancora per tornare in testa al campionato. Sicuramente essere riusciti a partire bene è stato fondamentale perché comunque Varane è una pista molto ostica per i solpassi, quindi riuscire a partire in testa, avevo un passo migliore degli altri, sono riuscito ad andare via e dopo ho gestito, quindi direi tutto molto bene. Secondo sul podio il ebreciano dell'Avelon Formula Ivan Bellarosa su Wolf GB08, adesso al comando della classifica tricolore. Molto soddisfatto dello sviluppo, sicuramente non completo, raggiunto dalla sua biposto americana con motore Honda in versione 2011, con la quale è scattato dalla prima fila in seconda posizione, autore di una gara dal ritmo elevato. Davvero chapeau a Francia, all'Osella, al lavoro che loro hanno fatto, sono andati molto forti e noi siamo contenti di avere finalmente un avversario degno di questo nome. Per il resto speriamo alla svelta di risolvere i problemi della nostra macchina, apro una parentesi, Avelon Formula che ha tutti gli effetti Wolf Racing Car, sta dall'inizio del campionato portando avanti i quattro programmi, uno nel campionato francese, uno nel campionato europeo, uno nel campionato tedesco e questo nel italiano. Contemporaneamente stiamo preparando lo sbarco in salita con una macchina E2B e stiamo portando avanti in pista, in gara, lo sviluppo della nuova sospensione anteriore 2012, quindi ci sta che siamo un po' in ritardo. Il giovane toscano Marco Falci ha portato la Ligee in versione JS51, curata dalla Nannini Racing con motore Honda, sul podio di gara, dopo un'ottima partenza dove il fiorentino ha saputo approfittare della bagara al via, conquistando la posizione da podio e difendendola strenuamente anche dai decisi attacchi di uno scatenato Davide Ubolli. Falci ha potuto contare su una vettura a punto, ma ha messo anche del suo per centrare l'importante risultato. Sì, dalle prove libere del weekend non ero tanto in forma perché la pista non mi è piaciuta, ho sempre avuto dei problemi. Abbiamo lavorato con la setup della macchina, in qualifica ho fatto un errore, sono uscito, ho fatto il quinto. Però poi in gara mi ero proprio vinto l'obiettivo del podio, è stata una gara regolare, a parte l'inizio un po' non citato, però ho gestito bene e sono contento di questo terzo posto. Sì, c'è stato un contatto tra Bella Rosa e Uboldi che mi ha permesso di infilarmi, Uboldi è stato dietro fino a un certo punto, si avvicinava, poi per passarmi ha fatto un brutto errore, penso che sporcando le gombe abbia provato ad andare più forte ma ha peggiorato la situazione, ho riuscito a accumulare un vantaggio che poi portandomi avanti l'ho gestito, sono arrivato terzo tranquillamente. Quarta piazza finale per il bolognese della Nanini Racing, Walter Margelli, che ha usato bene la Lucchini ma è attaccato continuamente dalla scatenata romana Marica Diana, che ha tentato l'attacco con la sua Wolf GB08 Honda della BF Motorsport, fin quando è stata costretta a fermarsi per una noia elettrica. Margelli si è in parte riscattato dai problemi del pre-gara, ai freni posteriori prima e all'ala poi. Quinta piazza finale per l'altro pilota BF Motorsport, il monzese di concorrezzo Marco Maria Visconti, che dopo i progressi nelle prove libere non è stato altrettanto contento della sua gara condotta all'inseguimento della Diana, da cui poi ha ereditato la posizione. Buoni i progressi nelle prove libere per il monzese, adesso secondo nel tricolore a due lunghezze da Bella Rosa. Sesta piazza per il sempre bravo ed infaticabile romano Claudio Francisci, che grazie alla rimonta ha vinto la categoria CN4 con la sua Lucchini BMW Best Lap, precedendo la Wolf di Guglielmo Bellotti e l'osella progetto corsa del campano Giovanni Faraonio, eccessivamente ballerino. Nono il romano Ragnini Randaccio che ha risalito la corrente a sufficienza per chiudere sul secondo gradino del podio della CN4 con la Lucchini BMW, con la quale ha preceduto l'altro campano dell'osella PA21P Honda, Antonio Beltratti, soddisfatto del motore della sua biposto, ma non altrettanto delle set up.